Una fondazione per il futuro sarà il titolo della prossima puntata di Essere benessere l'etica del vivere, che ci darà modo di scoprire il cuore pulsante e la struttura della libera fondazione antroposofica Rudolf Steiner, ispirata a valori e pensieri steineriani strettamente legati al rispetto e all'amore per madre natura. La trasmissione assolutamente da non perdere andrà in onda sabato 18 novembre 2023 alle ore 21 su Telecolor, canale 17 del Digitale Terrestre o in diretta a Facebook su Telecolor Green Team.